buongiorno a tutti sono ferdinando gottarder di elicom edizioni vi do il benvenuti a questo nuovo appuntamento con i nostri webinar che oggi inaugurano un nuovo ciclo di appuntamenti questo è il primo infatti che costituiranno un percorso di formazione su quelli che sono i sistemi di impermeabilizzazione e sulle coperture che vedranno alternarsi anche una serie di relatori nei prossimi eventi e che sono organizzati in collaborazione con poliglass come al solito ricordo a tutti che potrete porre delle domande utilizzando il pannello alla vostra destra di go to webinar le potrete digitare io vedrò di raccogliere cercheremo di dare risposta oggi per quanto possibile e poi inviteremo i relatori tecnici di poliglass magari a rispondervi successivamente al vostro indirizzo mail o vedremo di magari trovare delle forme per dare anche risposta a quesiti puntuali che dovessero essere posti ed eventualmente in cui per ragioni di tempo oggi non riusciremo ad essere tempestivi anche su questo potrete poi cercheremo di mettere anche sul nostro canale elicom news a disposizione la registrazione del webinar così che potrete rivederlo e vedere anche i passaggi su questo vedete con me già collegati simonetta rossi che è il product manager e il marketing operativo di poliglass e l'architetto antonio broccolino che è un esperto ormai di impermeabilizzazione lavora da lungo tempo su questo e autore di numerose pubblicazioni e autore dei codici di pratica ma è anche un normatore uni a questo riguardo fin dal 1988 quindi da lunga data e quindi l'esperienza consolidata che ha ci consentirà oggi di trattare il tema da in maniera veramente approfondita lo ringraziamo veramente della disponibilità allora dato che questo primo appuntamento come dicevo inaugura un ciclo io cederei la parola simonetta rossi che ci introduce un po anche a quelle che sono gli obiettivi di questo non solo del ciclo ma soprattutto anche di poliglass e di come è strutturata l'azienda per dar risposta a tutte le problematiche che riguardano come vediamo nella slide il routing e il waterproofing prego nicoletta possiamo iniziare direi bene grazie buon pomeriggio a tutti io prima di passare la parola l'esperto appunto delle impermeabilizzazioni architetto broccolino volevo illustrarvi brevemente chi è poliglass e soprattutto chi è stata e chi è oggi poliglass è un'azienda che nasce dalla dall'idea di una famiglia veneto una famiglia italiana che da impresa applicatrice decide di avventurarsi nella sfida della produzione delle membrane bituminose negli anni 70 è una sfida che porterà loro successo questo grazie anche ad un'intuizione ad una capacità industriale di prodotto e di processo che hanno saputo mantenere e sviluppare negli anni e soprattutto un'azienda che fin dall'inizio si è distinta per una certa apertura anche ad un mercato non soltanto dentro i confini domestici ma anche all'estero perché fin dall'inizio anche hanno subito visto le potenzialità del mercato estero in particolare del mercato statunitense poliglass appunto è stata un'azienda costituita da una famiglia italiana ed è rimasta italiana perché poi nella nella storia e negli anni successivi ha avuto la capacità di distinguersi sul mercato e di essere vista con una possibilità ulteriore di strategia di sviluppo aziendale anche da parte di un'altra famiglia italiana imprenditoriale di successo infatti nel 2008 siamo entrati a far parte della grande famiglia del gruppo mapei oggi poliglass conta un fatturato di più di 350 milioni di euro di fatturato e con più di 500 dipendenti la sede è rimasta in veneto in particolare la nostra la nostra sede principale è a ponte di chiave vicino a treviso abbiamo due linee produttive due reparti produttivi principali in particolare il corbiste si è rappresentato dalle membrane bituminose o meglio dire dalle membrane in bitume distillato polimero e abbiamo a questo proposito quattro linee produttive dedicate abbiamo poi una linea di produzione per il sistema dell'isolamento termo acustico e per l'accoppiamento e infine abbiamo anche sviluppato negli ultimi anni un altro importante settore del mercato della interminabilizzazione che è quello appunto dei manti sintetici e abbiamo infatti due linee produttive completamente dedicate a questo a questo mercato come dicevo prima continuiamo a essere un'azienda 100 per cento italiana non abbiamo bisogno di penso di presentare mappei agli esperti del settore del settore costruzioni ma giusto per ricordare qualche numero di questo grande gruppo internazionale parliamo di 87 paesi in cui un'azienda mappei è presente oltre 30 centri di ricerca 83 stabilimenti produttivi e oltre 10.500 dipendenti tornando a noi tornando a poliglass un cenno a quelle che è la gamma di prodotti come ho detto all'inizio è un'azienda che è partita con la produzione delle guarie bituminose e da allora ne abbiamo fatta tanta di strada e soprattutto siamo riusciti a sviluppare negli anni tenendo sempre presente e avendo sempre presente quello che era il nostro ruolo nel mercato e cioè quello di cercare di sviluppare prodotti innovativi quindi oltre diciamo alle membrane tradizionali siamo stati primi a introdurre nel mercato anche una gamma di prodotti che non prevede l'applicazione a fiamma quindi parliamo di membrane autoadesive che sono conosciute in tutto il mondo e parliamo di linea adeso parliamo di sistemi rioxtene questa è una gamma di prodotti che si caratterizza però compound con elevata percentuale di polimero e che caratterizza questa famiglia soprattutto per l'elevata durabilità che queste membrane una volta applicate hanno nel nel tempo abbiamo una gamma di geomembrane e geocompositi che vanno sotto il marchio polistrada e quindi parliamo di sistemi impermeabilizzanti e di rinforzo delle pavimentazioni stradali e infine l'ultima nata la famiglia di poli leaf che abbiamo lanciato a marzo del dell'anno scorso anche per festeggiare vorrei dire orgogliosi orgogliosamente quello che è stato un anno anche del festeggiamento del cinquantesimo dall'anno di fondazione dicevo poli leaf è una risposta semplice e innovativa al tempo stesso da parte di poli leaf nel trovare una soluzione tecnica che oltre a rispondere da un punto di vista tecnico con prestazioni soddisfacenti per quanto riguarda le membrane ma soprattutto è stata una risposta di poli leaf nel portare avanti uno dei valori essenziali cioè rispetto della salute della sicurezza non solo dei propri dipendenti ma anche dei propri clienti di tutti coloro i quali utilizzano le nostre membrane sul cantiere rispettando quelle che sono le normative previste dal decreto ministeriale del 2008 quindi con il massimo peso per rotolo e quindi massimo peso trasportabile e movimentabile dal singolo operatore passando poi oltre con altre tecnologie sistemi che poli la spropone che ha il proprio portafoglio passiamo alla linea poli sol che è una gamma completa di isolanti accoppiati in linea la linea sonic per le membrane dell'isolamento termo acustico delle pavimenti e infine abbiamo una vasta gamma di prodotti liquidi e complementari al mondo delle impermeabilizzazioni sia per quanto riguarda le membrane bituminose sia per quanto riguarda le impermeabilizzazioni realizzate con i manti sintetici e a questo proposito il brand mapplan identifica proprio tutta la linea dei manti sintetici sia in pvc che in tpo quindi in poliore fine flessibile che come sappiamo sono più specifici per settori quali applicazioni in fondazione in opere di ingegneria civile e in opere idrauliche volevo anche precisare che la visione e l'apertura dell'azienda verso il mercato estero si caratterizza per la presenza anche e soprattutto nel nord america di cinque stabilimenti produttivi poliglass dove appunto il mercato è un mercato prevalentemente di membrane autoadesive questo ci fa forte anche di esperienza proprio sviluppata dal centro di ricerca di ponte di piave e dove continuiamo a crescere anno per anno questa crescita è dovuta sia all'investimento che ogni anno poliglass fa nel settore della ricerca ma anche e soprattutto alla nostra assistenza tecnica lo staff che abbiamo interno che per noi è motivo di orgoglio ogni giorno e come ci viene riconosciuto ogni giorno da molti da molti di voi l'assistenza tecnica nostra è un assistenza è un servizio vorrei dire individuale di assistenza al progettista al committente all'ufficio tecnico a 360 gradi è un servizio che si rende disponibile per sopralluoghi è disponibile in fase di progettazione dall'inizio alla fine quindi dall'individuazione di una soluzione idonea alla descrizione a supportarvi nella descrizione di opere e voci capitolari è disponibile anche a fare delle verifiche termoigrometriche a richiesta e infine siamo in grado di supportarvi anche con disegni in autocad a seconda appunto della delle vostre esigenze nonché abbiamo anche nel nostro sito disponibile delle stratigrafie standard in formato bim ed è proprio in questa ottica di servizio di assistenza e di formazione continua che attraverso il nostro servizio tecnico vogliamo continuare a a che abbiamo pensato appunto di cominciare a lanciare questo servizio e questo accorso di formazione sulle impermeabilizzazioni a 360 gradi che abbiamo pensato di iniziare proprio con il massimo esperto del del settore che appunto il l'architetto broccolino al quale passo la parola allora passiamo il ruolo di relatore ad antonio ricordo fra l'altro a quelli che si sono collegati in questo momento che ci hanno raggiunto che il webinar di oggi è il primo di un ciclo che vedrà una serie di appuntamenti di cui uno anche già domani pomeriggio sempre a quest'ora che riguarderà sempre sistemi impermeabili continui approntando anche quelle che sono gli aspetti della gestione del cantiere i rifacimenti e le nuove opere allora antonio entriamo subito nel vivo allora ringrazio simonetta per le sue belle parole ma ci siamo in tanti di esperti allora in italia ogni anno vengono prodotti vengono venduti circa 100 milioni di metri quadri di membrane quantitativo quasi della stessa della stessa misura viene venduto all'estero e vengono realizzati con questi 100 mila metri quadrati di membrane circa 25 mila metri quadrati di copertura fra rifiacimenti 55 per cento e opere nuove e 45 per cento quanto incide l'opera di impermeabilizzazione in edilizia in italia il 2 per cento per edifici risidenziali e terziari e 4 per cento per edifici commerciali industriali quindi direi una minima parte le compagnie assicurative io mi occupo anche di assicurabilità di sistemi impermeabili cioè do le conformità ai fini assicurativi dicono che più o meno il 15 per cento degli edifici assicurati cioè oltretutto quelli se gli assicurati sono i grandi edifici più complessi quelli più curati entro dieci anni hanno problemi di infiltrazione da cui purtroppo il detto ci sono due tipi di impermeabilizzazioni quelle che perdono già da subito e quelle che perdono dopo poco allora io non sono assolutamente d'accordo su questa frase perché faccio questo mestiere da 44 anni e vi dirò che non è così assolutamente io dico che ci sono due tipi di impermeabilizzazione quelle che sono progettate ed eseguite male che perdono subito e quelle che sono progettate ed eseguite bene che perdono dopo 40 anni perché semplicemente sono invecchiate grazie alla simp l'associazione degli impermeabilizzatori italiani è stata fatta una ricerca molto interessante che ci dice che il 50 da più o meno il 50 per cento delle versente giudiziarie cioè dei contenziosi in edilizia si rivolgono all'impermeabilizzazione l'altro 50 per cento comprende le strutture gli impianti tutto il resto quindi è un numero spaventoso specialmente se uno pensa che le impermeabilizzazioni sono il 2 4 per cento dell'opera il 2 4 per cento dell'opera produce contenzioso per il 50 per cento ma la cosa che lascia più perplessi è che di questo 54 per il 50 per cento 50 per 4 per cento a fine del contenzioso si scopre che è un errore progettuale progettuale cosa significa del progettista di chi ha progettato l'impermeabilizzazione e questo non significa che sia sempre il progettista può essere l'applicatore o può essere qualcun altro nel fai da te il 23 per cento sono errori applicativi e il 21 per cento sono purtroppo errori di terzi cioè danneggiamenti in corso d'opera l'idraulico che buca l'impermeabilizzazione per far passare i tubi piastrellista che che taglia l'impermeabilizzazione perché gli dà fastidio per montare lo zoccolino eccetera eccetera ma meno del 2 per cento sono errori riproduttori cioè perché perché probabilmente viene scartato prima il materiale non è semplicemente non viene consegnato ma soprattutto perché la produzione oggi ha raggiunto dei buoni livelli di situazione o almeno ha raggiunto dei buoni livelli secondo il tipo di prodotto che consegniamo esiste una regola che si chiama la regola del 7 che è molto interessante allora si dice che in sette giorni in tempo breve escono dopo escono gli errori di applicazione cioè da alla prima pioggia un errore di applicazione normalmente è visibile c'è una perdita dovuta un angolo non eseguito bene a una saldatura non eseguita bene è visibile poi magari è difficile trovarla però comunque poco grave nel senso che può essere riparata in sette mesi e normalmente sono due cicli stagionali cioè primavera estate autunno inverno o comunque sono due cicli stagionali si manifestano gli errori di progettazione nei quali non sono anomalie puntuali ma sono anomalie diffuse cioè patologie che interessano una grande superficie della dell'impermeabilizzazione e quasi sempre purtroppo richiedono rifacimento totale dell'impermeabilizzazione in sette anni escono gli errori di produzione sette anni o comunque in un tempo più lungo potrebbero essere anche tre anni cinque anni dieci anni e i quali che sono legati soprattutto a un discorso di invecchiamento di prodotto o invecchiamento precoce del prodotto che si occupa di impermeabilizzazioni in italia in italia comperano prodotti impermeabili e in questo caso facciamo più riferimento e farò sempre più riferimento a un discorso di membrane in bitume polimero il mio collega amico re dei magni qualche fra qualche giorno parlerà di manti sintetici 8.000 soggetti ma questi 8.000 soggetti chi sono c'è l'impresa super specializzata c'è l'impresa artigianale c'è l'impresa edile che vuol fare un po da sé c'è il bricolage c'è quello che vuole fare l'impermeabilizzazione della copertura della cuccia del cane cioè tutti ma solo 300 imprese si possono dire specializzate cosa vuol dire vuol dire che hanno attrezzatura che sanno posare che hanno esperienza che hanno fidabilità ma essere saper posare un'impermeabilizzazione questo non significa saperla progettare a regola d'arte da dei conti che sono stati fatti diciamo che e non sono così precisi diciamo che potrebbe le imprese che sono in grado veramente di produrre un progetto a regola d'arte che segue tutte le normative che segue le indicazioni del codice di pratica cioè che senza possibilità di errore sono fra i 40 e 50 in italia qualcuno dice che sono ottimista io spero di non essere ottimista quanti sono invece i progettisti che si occupano esclusivamente di impermeabilizzazione in italia allora probabilmente meno 12 come funzionari di uffici tecnici di produttori di cui almeno due sono presenti nell'ufficio tecnico della polyglas e probabilmente di libri professionisti più o meno io potrei contarne 5 6 7 che si occupano di membrane flessibili ovviamente ci sono altri specialisti che si occupano di altri tipi di impermeabilizzazione ma io sto parlando di membrane flessibili prefabbricate e specialmente in bitume polimero la polyglas ha un consulente che sono io cosa significa progettare a regola d'arte progettare un impermeabilizzazione non significa semplicemente tracciare una linea in autocad tratteggiata quando io ho iniziato a lavorare ero studenti ed architettura andai a lavorare nello studio dell'architetto gioponti come disegnatore lì la prima volta disegnai una copertura della cattedrale di taranto e a un certo punto mi si avvicinò il geometra quello anziano dello studio e mi disse guarda che ti sei dimenticato l'impermeabilizzazione e io gli chiesi ma scusa l'impermeabilizzazione non è data dalla pavimentazione della stuccatura delle piastrelle no devi disegnare una linea tratteggiata e io fino al 76 anno in cui cominciai a occuparmi di impermeabilizzazione ero convinto che quella linea rossa tenesse l'acqua ma progettare un'impermeabilizzazione non è tracciare semplicemente una linea tratteggiata e non è neanche sufficiente dire che il prodotto deve essere marcato CE perché tutti i prodotti devono assolutamente essere marcati CE ma la marcatura CE attesta solo l'idoneità del prodotto per quel certo impiego ma non è una certificazione di qualità come alcuni credono per verificare la qualità di un prodotto o c'è l'esperienza o c'è la conoscenza delle normative e c'è la verifica delle schede tecniche tutte le membrane impermeabili sono nere sono sempre confezionati il rotolo per cui è già anche difficile anche per un aspetto capire se sono buone se sono cattive se sono di top di produzione o meno progettare regola d'arte non è facile non vi preoccupate non vi sto elencare tutte le situazioni anche perché questo sarà uno dei documenti che poi in qualche modo vi faremo avere questa è una checklist e parte da una normativa che non mi ricordo il numero e comunque questi sono i passaggi di progettazione quindi è chiaro che uno specialista non ha bisogno di guardarlo perché ce n'ha nel dna però un progettista questo è molto comodo cosa significa progettare a regola d'arte significa non semplicemente indicare due membrane bituminose incrociate armate poliestere come ogni tanto trovo i capitolati ma è indicare tutti gli elementi e strati primari e secondari che compongono il sistema impermeabile nel suo complesso l'ideale è progettare in 3d perché progettare in 3d come potete vedere questi sono progetti fatti dalla dall'ufficio tecnico della polyglas il sistema è molto chiaro ed è molto chiaro anche per l'applicatore ma non è solo progettare la stratigrafia è progettare anche i particolari esecutivi e sempre in 3d perché è una scatola di montaggio e vi assicuro non è semplice perché 40 anni fa 50 anni fa c'era gente che si tramandava questo mestiere di padre in figlio oggi purtroppo la eh gli operatori di questo settore non sono più i nostri bergamaschi bresciani pugliesi sardi napoletani quelli che io ho conosciuto negli anni settanta verificare un sistema riguardo la conformità allora vedrete che ogni tanto nell'immagine c'è questo simbolo vi consiglio di fotografare l'immagine allora un'impermeabilizzazione deve avere sette requisiti essenziali e un progettista sia in frase di progettazione un direttore lavori in fase di verifica un impresario un applicatore un ispettore di sistemi impermeabili a fine assicurativi deve verificare che l'imperme il sistema impermeabile che sta verificando sta realizzando o sta progettando deve avere questi sette requisiti essenziali fattibilità funzionalità continuità accessibilità manutenibilità durabilità e conformità alle normative fattibilità io in uno dei cantieri che ho controllato ai fine assicurativi mi sono trovato davanti a una fioriera profonda un metro e dieci larga 30 cm che andava impermeabilizzata con membrane bitume polimero allora chi ha disegnato questa fioriera non si è minimamente preoccupato della fattibilità dell'opera cioè quest'opera è infattibile tanto è vero che hanno dovuto riempirlo fino a 50 centimetri dal bordo di calcestruzzo e poi quando sono andati a piantarci le piante o gli alberi hanno dovuto creare dei fissaggi per dei cavi di acciaio per tenere su questi elementi perché non avevano abbastanza profondità e abbastanza blocco nell'apparato radicale per stare in piedi funzionalità dell'opera siamo ad assago milano fiori questo è quello che ha progettato l'architetto non era italiano e questa situazione perché ha progettato questo perché esteticamente si era innamorato delle lastre di dei serramenti di cristallo che penetravano nel calcestruzzo della pavimentazione questo è visto da fuori un chilometro e mezzo questo è visto dall'interno un chilometro e mezzo continuità idraulica dell'opera un'impermeabilizzazione si chiama copertura continua cosa vuol dire vuol dire che deve essere continua nella sua tenuta idraulica non può avere elementi di discontinuità che impediscono in alcuni punti la tenuta idraulica che poi andiamo a toccare con san silicone o santa schiuma poliuretanica o qualche altro santo l'impermeabilizzazione deve essere attenuta su tutta superficie interessata dalla stessa quindi continuità durabilità dell'opera quando io penso un'opera di impermeabilizzazione devo pensare a due cose quanto deve durare come manutenzionarla come ripararla ma quanto deve durare esiste anche il codice civile il quale ci dice che un'opera di impermeabilizzazione deve durare almeno dieci anni ma se io uso dei prodotti che non hanno la durata di dieci anni perché li sbaglio perché non sono adatti a essere utilizzati esposti ai raggi ultravioletti non sono adatti come quello in alto a destra ad essere utilizzati a temperature sotto i 5 10 gradi centigradi non è pvc non è tpo quello è un altro materiale sintetico che è stato usato soprattutto in germania ma non è tpvc e tpo grazie al cielo e questa situazione cosa succede succede che l'impermeabilizzazione non dura non dura neanche un anno non dura due anni non dura nulla quella quella immagine a destra in alto erano sei mesi dopo la posa accessibilità della copertura una copertura secondo la norma 11 5 4 0 che è una norma che tratta la l'accessibilità della copertura ma soprattutto la manutenibilità della copertura dice che una copertura deve essere accessibile magari anche rimuovendo la pavimentazione demolendola ma non è possibile che non sia accessibile quindi è un'assurdità posizionare degli dell'impiantistica sulla copertura quando l'impiantistica impedisce l'accessibilità specialmente quando l'impiantistica è di grande dimensione qualche volta costa più il costo dell'impiantistica che il resto manutenibilità che cosa faccio che manutenibilità eseguo su queste due coperture sono in vicinanza di milano due passi da milano mi hanno detto dobbiamo rifare l'imperizzazione vuol venire a vederla cosa vedo gli facciamo un tetto sopra dico possiamo smontare tutto no facciamo un tetto sopra come faccio io a operare cosa qualcuno dice ma spruzzo le resine poliureiche dappertutto ma dove spruzzo le resine poliureiche sui sui tubi sui cavi cosa spruzzo non è possibile fare manutenzione per cui è un progetto sbagliato quindi tutto quello che abbiamo visto quelle sei requisiti quindi si aggiunge il settimo requisito la copertura deve essere a tutti gli effetti avere a tutti gli effetti quei sette requisiti se manca anche solo uno di quei requisiti la copertura non è assicurabile io che mi occupo di assicurazioni vi assicuro che radissimamente io ho trovato una copertura che di primo acchito a una verifica documentale fortunatamente fosse assicurabile poi si modifica e le coperture diventano assicurabili ma nel senso che normalmente manca sempre uno dei sette requisiti se ci sono qualche una domanda veloce due domande veloci io sono in grado di rispondere in questo momento adesso direi andiamo avanti tutti molto attenti e interessati allora progettare a regola d'arte io sia lodato per la 11 5 4 0 perché finalmente esiste una normativa uni che è la 11 5 4 0 che tutti i progettisti dovrebbero acquistare che dice che dà per prima la definizione di regola dell'arte nel mondo delle impermeabilizzazioni allora dice progettare a regola d'arte quali sono gli strumenti le leggi dello stato ma se le leggi dello stato come mancano sono carenti non non sono chiare si passa alle normative uni vigenti che purtroppo non sono tante anche se ultimamente grazie ad assimpa di grazie a tanta gente siamo riusciti finalmente a fare delle normative di progettazione e di applicazione se sono in mancanza o in carenza queste normative valgono i documenti tecnici redatti da associazioni di categorie quindi ad esempio il codice di pratica iglae o il manuale assimpa iglae o in mancanza o in carenza di questi i manuali e le schede tecniche redatte da produttore ma attenzione solo per il prodotto che rappresentano non è che io posso leggere il prodotto della del produttore rossi e applicarlo a quello del produttore broccolino cioè non c'entra niente il produttore rossi vale per il produttore rossi il prodotto broccolino vale per il prodotto broccolino i documenti valgono per il prodotto per il prodotto prodotto da produttore fate una fotografia non è possibile che negli uno studio professionale non ci siano le seguenti normative costano 50 euro 30 euro fate un investimento magari nel decreto ministeriale attualmente c'è la possibilità di scaricare le normative negli studi tecnici quindi queste normative sono basilari e sono basilari in particolare la copertura verde le obbliche responsabilità del progettista se la leggete non fanno fatte per i progettisti estrazione al vento e vincolo degli strati manutenzione del sistema e copertura strati ed elementi funzionali che è una normativa che è uscita lo scorso anno ed è rivoluzionaria e si basa soprattutto questa nostra con questo nostro colloquio allora sono in fase di lavorazione è un appendice alla normativa 81 78 2 che sarà prettamente esecutiva progettuale in cui ci stiamo lavorando in questo periodo progettare a regola d'arte allora ci sono te non ci sono molti libri sulle membrane in bitume polimero e a membrane sintetiche esistono forse più libri su discorsi di umidità di altre situazioni allora esiste innanzitutto quello che viene ritenuto il vangelo delle impermeabilizzazioni che è stato scritto nel 92 e ormai è parecchie edizioni che il codice di pratica delle impermeabilizzazioni l'ho scritto io ma comunque mi permetto di pubblicizzarlo anche perché non prendo royalties su queste su questi documenti l'ho scritto per la sua per lanci associazione nazionale costruttori questo da tutti i minimali di relativi ai prodotti impermeabili che possono essere utilizzati e soprattutto è riferimento per le assicurazioni per le altre situazioni ed è un po la punto di partenza di quasi tutte le normative che nascono perché in qualche modo sono già trattate sistemi di impermeabilizzazione seguendo le indicazioni del codice di pratica questo libro scritto dal professor Matteo Fiori docente Politecnico di Milano tratta delle soluzioni già eseguite cioè dei sistemi impermeabili standard chiaro che non tratta tutti i sistemi impermeabili standard tratta quelli più o più eseguiti esiste un altro libro che è stato scritto da fiori croce e il sottoscritto che patologie diagnostiche le coperture continue che è specifico per ctu e ctp cioè da una fotografia si risale al motivo del che ha dato che ha causato la patologia e quindi all'errore quindi estremamente comodo e a colori ci sono centinaia di fotografie con la descrizione del quello che probabilmente è successo cosa vi regalerà Poliglass Poliglass non vi darà questa presentazione ma vi darà un libro che ho scritto due anni fa per Polo l'anno scorso per Poliglass che è lezioni di impermeabilizzazione lezioni di impermeabilizzazione sono 420 pagine a colori che parte dalla dall'antichità e arriva la gestione del cantiere diviso in venti lezioni tratta ogni lezione tratta un argomento questo libro vi verrà dato in pdf ed è un piacere di dire che è un libro che viene utilizzato anche come libro di testo al Politecnico di Milano prima di passare a questo ti faccio solo una domanda fra le tante che sono arrivate ma ci chiedono quando non è stato predisposto un progetto per l'impermeabilizzazione qual è la responsabilità poi della direzione lavori assoluta allora il progettista allora vi racconto un aneddoto io ultimamente ho seguito un lavoro che di cui poi vi farò vedere la fotografia un lavoro non faccio nomi era mestre sono arrivato sul cantiere e il progetto e mi sono accorto che i risvolti verticali erano troppo bassi rispetto al pavimento cioè erano più bassi del livello escurimento delle acque io ero ispettore assicurativo ho detto che non andavano bene hanno chiamato il progettista il quale ha detto io ho deciso così punto e basta è responsabilità dell'impresa eseguire il lavoro in modo corretto allora io ho compilato la mia il mio verbale e ho scritto che non veniva concessa la conformità fini assicurativi perché esisteva un errore progettuale il progettista detto ma che così da lei dalla responsabilità messi il progettista è tenuto a conoscere le normative i codici di pratica tutto quanto l'impresa è tenuta a conoscere normative il codice di pratica tutto quanto l'applicatore è tenuto a conoscere le normative i codici pratica e tutto quanto e idem direttore lavori allora o qualcuno contesta e dice che non va bene o tutti quanti si dividono la rogna 25 25 25 se sono in quattro 33 33 33 si su qua vi racconto un altro aneddoto no se poi solo eventualmente dare una precisazione nel senso che ci fanno notare la direzione lavori non deve essere scusa l'aneddoto lo do ma velocissimo perché importantissimo allora c'è stato un lavoro in campagna 25 anni fa 20 anni fa 25 anni fa in cui un'impresa importantissima italiana ha fatto un getto di una pendenza con cemento cellulare l'impresa che doveva fare l'inferenzazione è salito su questa tendenza e sprofondava con i piedi ha contestato il lavoro all'impresa generale l'impresa generale gli ha detto mi assumo tutte le responsabilità io ti mando una raccomandata per dirtelo imponendoti di eseguire i lavori e ti sollevo da ogni responsabilità l'impresa applicatrice è fallita perché il giudice ha detto che l'unico documento su cui si possono fare le contestazioni non è una raccomandata ma è il giornale lavori è chiaro quindi ho già risposto tutti i colloqui e le contestazioni vanno fatti all'interno del giornale lavori perfetto allora penso abbiamo chiarito questa questione allora proseguiamo che abbiamo molta carne al fuoco si moltissima dunque allora parliamo dico direi di continuità pensate che nelle normative uni la parola impermeabilizzazione non esiste esiste continuità e copertura continua cosa significa che un impermeabilizzazione come primo requisito deve essere continuo deve avere una capacità di contenimento dell'acqua all'interno della sua dei risvolti verticali e questa capacità di contenimento dell'acqua non deve essere legata alla pendenza cioè teoricamente dovrebbe contenerla le stesse questo non significa che non c'è bisogno della pendenza la pendenza va fatta va per scaricare l'acqua ma teoricamente l'acqua deve poter rimanere anche in situazione o completamente orizzontale copertura discontinua è una copertura fatta a tegola infatti in lamiera grecate dove la pendenza è basilare per la tenuta all'acqua ora il problema sembra semplice non è così semplice per cui qualsiasi copertura continua a un certo punto incontra una copertura discontinua che è l'involucro verticale della facciata del palazzo che può essere una facciata continua può essere un cappotto in questa situazione c'è un punto normalmente che è una sigillatura è una scossalina è una guarnizione e ricordatevi che la 11 540 vi dice che la scossalina la guarnizione la sigillatura è un elemento di discontinuità quindi non rientra nella garanzia di tenuta idraulica dell'impermeabilizzazione ma fa parte della discontinuità e quindi rientra in una manutenibilità che la normativa 11 540 chiedere di verificare ogni sei mesi ogni 12 mesi e sulle sigillature c'è il consiglio che devono essere fatte ogni due anni per cui le sigillature se non sono a loro volta protette da qualcosa che gli impedisca di essere interessate dai raggi solari o di essere rovinate proprio dall'invecchiamento devono essere mantenute e ciclicamente riparte quindi non rientrano nella sicurabilità né in in garantibilità patologie più ricorrenti io sto scrivendo un libro che uscirà credo per i saie su questo argomento avevo cominciato a scrivere un articolo poi è arrivato pagina 40 mi sono accorto che non era un articolo cosa sono le impermeabilizzazioni quali sono i problemi principali di un'impermeabilizzazione che non mal progettata cosa succede a un'impermeabilizzazione che non è stata correttamente protetta o vincolata al piano di posa parliamo soprattutto di mantisi membrane bitume polimero e oggi tratto membrane bitume polimero abbiamo una prima patologia che la retrazione poi li vedremo nel particolare che è il distacco del sormonte di testa e avviene per memoria dimensionale dell'armatura in fase di produzione e viene nel periodo più caldo dell'anno poi abbiamo la reptazione di tipo 1 con regolamento diagonale che avviene in cicli successivi di rigidimento e di ramollimento caldo o freddo della mescola che avviene soprattutto nel corso dell'anno cioè si innesca durante l'inverno e si verifica durante l'estate avviene un'altra situazione che è il che la reputazione di tipo 2 in cui il corrugamento è trasversale cioè è dovuto a diversa esposizione solare della copertura ed è tipico della quando si costruisce di fianco a un'impermeabilizzazione su un terrazzo un palazzo che fa ombre su metà di questa impermeabilizzazione nessuno ci pensa e però è uno dei problemi principali che andremo a vedere parliamo di retrazione questa è una linea di produzione delle membrane bitume polimero in cui la membrana viene tirata all'interno scusate la membrana l'armatura della membrana viene tirata all'interno della linea passa all'interno di una vasca di impregnazione della mescola bituminosa viene raffreddata e poi viene arrotolata dopodiché gli mettono uno scotch durante questa fase la l'armatura riceve un allungamento che varia da 10 a 2 centimetri ogni 10 metri sono tanti e questo viene bloccato all'interno del rotolo questo allungamento si chiama memoria dimensionale dell'armatura e lo si può leggere all'interno di una scheda tecnica cercando stabilità dimensionale a caldo un in 1110 ogni produttore lo indica la retrazione avviene ovviamente moltissimo molto sui non tessuti di poliestere da filo continuo o di affiocco avviene meno sui non tessuti di poliestere stabilizzati poi vedremo cosa sono e cosa comporta comporta il distacco delle sormonte di testa ma è talmente forte questa resistenza questo questo ritiro se la membrana non è incollata in modo corretto perché se incollate in modo corretto questo problema non c'è e non c'è vi dirò neanche se c'è un pavimento sopra armato perché se il pavimento non è armato come in questo caso che è un conglomerato bituminoso il conglomerato bituminoso si rompe in corrispondenza delle sormonte di testa quindi un progettista deve essere a conoscenza che le membrane vanno pesate stabilizzate e che deve stare molto attento alla stabilità dimensionale a caldo prendiamo tre armature la prima sinistra è la classica armatura poliestere filo continuo allora il codice di pratica dice che questa armatura può essere solo io so che i produttori magari anche la poligra mi picchierà alla fine ma io sono convinto così e lo dico il codice di pratica dice che questo tipo di armatura va utilizzata solo esclusivamente se c'è una pavimentazione pesante fissa sopra cioè non i quadrotti su dischi non gli autobloccanti su sabbia pesante fissa cioè quelle che si dimoliscono col me con martello pneumatico negli anni a metà degli anni 90 e sta sono stati è uscita questo tipo di armatura che è una stabile una membrana un poliestere filo continuo in cui all'interno ci sono dei filamenti longitudinali in vetro i quali danno stabilità ma soprattutto non possono essere tirati dalla macchina perché si spaccherebbero voi sapete che il vetro non è elastico e questi hanno risolto gran parte dei problemi di retrazione ma questo tipo di armatura ha un problema che è molto resistente in senso longitudinale ed è molto meno resistenza alla lacerazione in senso trasversale vedremo dopo cosa può succedere se uno sbaglia la direzione di posa dell'impermeabilizzazione e progettista deve dire la direzione di posa dell'impermeabilizzazione l'armatura ideale è quella che è nata alla fine degli anni 2000 dal danni 90 cioè all'inizio negli anni 2000 che è un'armatura simile a questa stabilizzata ma con rete di vetro per cui la resistenza alla lacerazione è identica in tutti i lati poliglass si crede molto in questo tipo di armatura tanto è vero che c'è una gamma di prodotti specifici con questo tipo di armatura e noi con questi tipi di armatura io la retrazione non l'ho mai vista per capire quali sono i prodotti nella sigla del prodotto c'è la sigla e lc nel nome del prodotto parliamo adesso di reputazione di tipo 1 la reputazione di tipo 1 invece si sviluppa con il freddo molto forte cioè meno 10 gradi per cui il bitume a meno 10 gradi ritira la membrana non è che ritira a meno 10 gradi perché è congelata all'interno del bitume ma crea una struttura al bitume stesso e comunque questo ritirarsi si contrae e si contrae verso il centro ora guardate questo tetto lo vedete queste linee diagonali di retta di reputazione si chiama reputazione ma è proprio un contrarsi della massa bituminosa verso il centro del tetto è molto semplice prendete una tela di pittore datigli un pizzico al centro e vedrete che si formano le stesse onde esistono dei vettori ortogonali ai lati che si diricono verso il centro che si compongono in un vettore componente diagonale sui quali si dispongono le onde come vedete questo qui è un esperimento che ho fatto io è uguale a questo è chiaro che l'ondulazione poi perché avviene perché il bitume non riesce a rompersi disfarsi durante l'estate questo effetto di ritiro comporta l'innalzamento la ricupero della dimensione della membrana e queste ondulazioni si formano proprio per come avente come struttura l'armatura stessa e si formano queste ondulazioni quando voi ctu o ctp andate su un tetto e vedete che ci sono delle onde che partono delle ondulazioni che partono dal centro dalla scusatemi dai lati dai punti fissi dai cammini dagli dagli angoli della copertura e vanno verso il centro questa si chiama reputazione di tipo 1 la reputazione di tipo 2 invece è la prima reputazione che era stata studiata e avviene quando io ho un palazzo ovest che crea ombra su un'impermeabilizzazione non pavimentata a est nelle mezze stagioni io ho una situazione in pomeriggio in cui io posso avere 65 gradi su mezza copertura e 5 gradi 10 gradi sull'altra mezza copertura per cui questa parte si retrae e si tira dietro la copertura morbida e questo crea il distacco dell'impermeabilizzazione ad esempio dei svolti verticali quindi quando avete progettisti una situazione di questo genere è obbligatorio fare una pavimentazione pesante fissa non potete avere un ardesiato e se la casa che è di fianco esiste già state costruendo un palazzo nuovo dovete pagarli una pavimentazione pesante fissa questa la situazione da destra da est cammina verso la zona ombreggiata la forza di tiro della reputazione è talmente forte che raggiunge i 500 kg su un metro di lunghezza del 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 telo del del risvolto verticale e questo cosa comporta sempre che l'impermeabilizzazione non sia stata fissata e stabilizzata in modo corretto perché se è stata stabilizzata in modo corretto queste patologie non avvengono avviene il distacco del risvolto verticale con l'apertura delle sormonte quindi questo è dovuto a problemi di reputazione è chiaro che queste onde lavorano appealing sulle sormonte per cui si apriranno entrerà ulteriore acqua e stabilizzerà ulteriormente il sistema impermeabile attenzione tutte queste patologie la retrazione e reputazione di primo tipo di secondo tipo si possono anche sommare nel corso dell'anno interiagire fra di loro e poi ultimo ma non ultimo arriva i fenomeni di estrazione da vento perché una membrana che si è staccata dal supporto subisce anche le azioni di estrazione del vento le quali c'è questa linea la vedete questa probabilmente una linea trasversale dare da distacco da vento quindi sono altre situazioni ma ricordatevi che gli effetti di queste patologie portano sempre a un effetto di ritiro c'è qualche informazione no qualcuno magari ci chiede se puoi spiegare ritornare un attimo sull'effetto memoria dimensionale che hai citato io vi faccio una se avete un golf portata di mano provate a tirarlo vedrete che il golf si allunga e si stringe e quello che succede all'armatura quando viene tirata all'interno della della linea di produzione si allunga si allunga anche di 10 cm di a seconda dell'armatura diciamo che i pro gli esseri migliori che ci sono in commercio il top di produzione sono lunga di 5 centimetri più o meno un'armatura stabilizzata si allunga di 2 3 centimetri ma un armatura diciamo economica si può allungare anche di più di 10 cm è chiaro che nel momento che io ho questa super questo elemento allungato che lo vado a rotolare è come a rotolare su un dito un elastico tirato se poi lo blocco e ci faccio un nodo o lo confeziono questo rimane latente la dimensione originale per cui una volta che ho tolto il nodo e ho posato l'impermeabilizzazione sul piano di posa provate a fare un esperimento se lo fate alle 10 del mattino e andate a misurare alle 4 del pomeriggio vedrete che si sarà ritirata di due o tre centimetri ma l'impermeabilizzazione non viene lasciata per cinque o sei ore di rotolo sul tetto viene posato immediatamente dopo quindi quel ritiro ce l'avrete l'estate successiva e quanto dura questo ritiro questo effetto di memoria dimensionale dura circa due anni dopodiché si esaurisce però attenzione se l'impermeabilizzazione viene posata in modo corretto progettata in modo corretto questo problema non esiste però di aver risposto sì assolutamente molto chiaro è un consiglio ci chiedono quando abbiamo ad esempio qual è il senso in cui dobbiamo spendere devono avere cinque minuti di pazienza ok allora raccogliamo le altre domande ne parlo ne parlo assolutamente di questo argomento anzi la domanda è intelligente allora la mescola del bitume polimero bitume bitume distillato ormai di raffineria raffineria più o meno in una membrana parliamo del top di produzione entra al 75 per cento il polimero entra al 25 per cento il bitume ha una flessibilità a freddo di più 25 gradi e una temperatura in rallommolimento di 80 gradi centigradi è chiaro che il bitume di per se stesso non può essere utilizzato per fare impermeabilizzazione perché sarebbe sempre squagliato insomma il polimero prendiamo il polipropilene a tattico ad esempio ha una flessibilità a freddo di circa meno 20 gradi centigradi con un punto di rammollimenti di 140 gradi in questo caso diciamo il top di produzione anzi più che polipropilene tattico consideriamo i polipropilene nell'estomerizzato e poi ne parleremo sulla differenza poi c'è nella mescola inerte che variabile che varia dal 50 per cento al 10 15 per cento e per i prodotti di alta gamma stendiamoci 50 per cento prodotti di bassa gamma allora se io mescolo semplicemente bitume e polimero faccio una spugna in cui il contenuto contenente è il bitume il contenuto è il polimero è chiaro che non cambia nulla ma l'ingegnere Breitner scoprì che esisteva l'inversione di fase cioè c'è lo scambio fra contenuto e contenente quindi è il polimero che si mangia il bitume non è il bitume che si mangia il polimero quindi il risultato di questo elemento che io produco è un qualcosa che ha le caratteristiche del polimero a perdere le caratteristiche e bitume ed è questo il motivo per cui si possono fare le membrane in bitume e polimero perché la membrana avrà in produzione meno 20 gradi centigre flessibilità freddo e 140 gradi centigre in rammollimento su questo discorso normalmente io ci sto mezz'ora mi dispiace lo troverete molto più chiaro su quel libro che vi do se guardiamo una membrana è sempre nera è sempre il rotolo ma se la guardiamo al microscopio elettronico i punti neri e il bitume i punti il giallo e il polimero quindi vedete che è il bitume che è in contenuto nel polimero e non viceversa nonostante che sia il rapporto sia 1 a 3 1 si è 1 a 3 ora questo eccellente i prodotti eccellenti sono lo vedete fino alla buona la discreta questi sono i prodotti pessimi quando si usa un quantitativo di carica enorme quando una membrana costa questa costa un terzo di questa è chiaro che non vi si può dare chissà che cosa è sempre nera e sempre rotoli e sempre tiene l'acqua peccato è invecchia quindi questa situazione o questa situazione sono dovute a quantitativi di filler molto alti con polimeri non di altissima qualità allora i prodotti andiamo a vedere ora la mescola che è importante esistono tre mescole in commercio soprattutto la mescola di delle membrane con app cioè mescola la pipì e polipropilene a tattico che era una volta era lo scarto di produzione del moplen questo ha il prodotto ideale che si può produrre con questo tipo di polimero è una membrana plastomerica plastomerica in cui la flessibilità freddo e meno 15 la temperatura di ammollimento è 120 gradi ricordatevi una cosa che la la temperatura di una superficie impermeabile granigliata grigia è 85 gradi testate quindi qui siamo abbastanza lontani ricordatevi che il freddo a una membrana non dà fastidio cosa dà fastidio è il caldo questo invece normalmente è sono polipropilene allastomerizzato cioè un prodotto migliore del del polipropilene a tattico ed è un polipropilene che ha delle caratteristiche migliori soprattutto a degli aspetti elastoplastomerici però non guardate spesso e volentieri i produttori chiamano elastoplastomerico qualsiasi membrana in realtà per essere elastoplastomerica vera una membrana deve avere questi requisiti deve avere una flessibilità freddo di almeno di minore uguale a meno 20 gradi con una temperatura di per ammollimento di 140 gradi centigradi questo è l'ideale è un prodotto eccezionale cioè vuol dire dalla sicilia alle alpi le membrane elastomeriche in cui la parola elastomerica probabilmente più sexy di elastoplastomerica quindi piace di più in realtà non sono stabili raggiù tra violetti e hanno una flessibilità freddo di meno 25 e una temperatura in aumento di 100 gradi ma esporre una membrana elastomerica al sole su un isolante termico e qualche volta a farla arrivare a 90 gradi vuol dire che è molto molto vicino alla temperatura di rammollimento e quindi potrebbe invecchiare precocemente allora aspetti positivi nella membrana elastomerica facilità di applicazione anche in inverno io riesco a incollarla che è una meraviglia superficie di aderenza ho un problema che non voglio far diffondere le infiltrazioni sotto l'impermanizzazione è l'ideale la membrana elastomerica aspetti negativi e debole resistenza reagente se nera le cade completamente se è ardesiata io no io personalmente mi picchieranno ma non la uso e il discorso è che può essere un aspetto negativo il fatto che si incolla bene come mai se io incollo una membrana elastomerica che si incolla perfettamente a fiamma su un pannello termoisolante che magari contiene umidità la tempo la l'umidità il vapore acqueo non riesce a fuggire via nei punti dove una membrana plastomerica invece lo lascerebbe passare figuratevi che la norma 11442 dice che è sufficiente incollare una membrana di tipo al 20 per cento della sua superficie per avere un incollaggio a regola d'arte quindi al 20 per cento della superficie l'umidità il vapore acqueo se ne va via su una membrana elastomerica al 100 per cento si ristagna e quindi si formano delle bolle se io metto un piede su questa bolla d'inverno potrebbe rompersi la bolla è chiaro che se c'è una pavimentazione sopra non succede nulla questo tanto per dirvi è city life si sono formate delle bolle su un massetto alleggerito che era umido aveva preso la pioggia ma le bolle non sono dovute a errori di applicazione dell'applicatore anzi è bravissimo l'applicatore perché l'ha applicata talmente bene che il vapore acqua non riesce a scappare ma è talmente incollato che se la forma la forza del vapore acque è stato talmente forte che ha staccato la parte corticale del massetto quindi questo non è un problema di produzione non è un problema di applicazione è un problema di progettazione ad esempio non si usano massetti alleggeriti se non se non c'è una pavimentazione fissa sopra perché sono molto igroscopici e può succedere questo l'esposizione di una membrana elastomerica al sole crea questo o crea questo per cui progettisti quando fate un progetto decidete il prodotto membrana elastomerica primo strato sotto una membrana artesiata si può essere messo per primo strato sotto due strati sotto una pavimentazione pesante fissa può essere messo tranquillamente a vista ma neanche morti qualche domanda allora beh ce ne sono molte quindi io non sono messo cioè dunque allora fatemi fare questo poi passiamo prima di parlare della direzione di posa direi di sì allora il codice di pratica dice che divide le membrane in classe di qualità classe di appartenenza al capitolo 4 del codice di pratica vengono riportati questi dati con i minimali i prodotti si dividono in classi attenzione che non è norma questa il codice di pratica però siccome in carenza o in mancanza di norma vale il codice di pratica e le società di verifica e di assucurabilità considerano questa questo testo fate una fotografia se avete voglia allora classe s sono i prodotti top di produzione i migliori quelli che vi ho fatto vedere prima quanto durano devono durare 20 25 anni quanto durano nella realtà io dei tetti fatti negli 80 negli anni 80 che sono ancora lì il tetto di casa mia ha 40 anni è perfetto non c'è una perdita allora la classe prima meno 15 gradi è quella che io vi ho detto fatta con app plastomerica nelle schede tecniche sarà scritto elasto plastomerico ma è plastomerica la durata è tra i 10 e i 15 anni sufficientemente ma il codice di pratica dice che sicuramente è conforme se metto due membrane in classe s ma al massimo posso metterne una in classe prima quindi la stratigrafia minima è una membrana in classe prima prima una membrana in classe s normalmente la membrana in classe s è quella superiore ma potrebbe essere anche quella inferiore ad esempio se ho prodotti particolari ad esempio anti radice roba del genere dove non è qualche volta non esiste la classe s la polyglas a gli anti radice in classe s a titolo informativo le classi seconda la classe terza le buttiamo via no barriere vapore per di vapore e così via se li teniamo esposti quanto durò 5 10 anni 4 6 anni e attenzione bisogna conoscere le classi di imperializzazione io non posso dire due membrane nere armate poliestere posate incrociate non è quello un capitolato devo dire la mescola la tipo di armatura e la direzione di posa adesso vi faccio un test e onestamente ognuno di voi perché purtroppo quando li guardo in faccia faccio alzare le mani ma oggi non posso far alzare le mani ognuno di voi si faccia un esame di coscienza io vi faccio vedere una stratigrafia tutto il percorso e voi mi dite se quello che normalmente fate o se quello che pensate che sia corretto o se non è corretto mi piacerebbe che qualcuno dicesse dove non è corretto solaio orizzontale scusatemi c'è uno scambio di immagine strato termo è stato termo isolare barriera vapore qua andava questa immagine cioè barriera vapore che è questa sopra la barriera vapore metto l'isolante termico quindi questa è l'immagine 1 questa è l'immagine 2 questa è l'immagine 3 al di sopra dell'isolante della dell'isolante termico metto il massetto delle pendenze che porca di una miseria dovevo mettere fare il lavoro settimana prossima mi viene giù un acquazzone vabbè comunque poi viene il sole io vado con il termoigrometro controllo no no è asciutto è asciutto e appoggio l'impermeabilizzazione vi do 5 secondi e se arriva una domanda adesso mi piacerebbe arrivare con una risposta se giusto se sbagliato potete digitare nel pannello domande se volete anche se un po empirico un sì o un no allora qualcuno ci dice che sbagliato cominciamo quello che ha detto che è sbagliato ragione allora cosa è successo è successo che quell'acqua che mi aveva imbibito il massetto e che poi è andata via dal massetto il massetto si è anche asciugato dove è finita è finita sulla barriera vapore per cui io sulla barriera vapore ho due centimetri d'acqua che non andranno mai via nei secoli dei secoli anzi potrebbe essere un'ottima soluzione per scoprire se l'acqua era inquinata o meno se le piogge erano inquinate fra cento anni perché fra cento anni se buco questa impermeabilizzazione trovo l'acqua di di quando l'ho costruita questo è un tetto fatto in quel modo io non ho dato conformità a questo tetto quindi non è stato assicurato vado a rompere il massetto e trovo che il massetto delle pendenze costruito sopra l'isolante termico al mille per mille di umidità questa è la fotografia che io faccio alla barriera vapore non si vede la barriera vapore sono io che mi fotografo e mi si vede il riflesso due centimetri d'acqua su tutto il tetto e per sei mesi hanno dovuto togliere acqua con il bidone aspiratutto la soluzione giusta è solaio fotografatelo solaio massetto delle pendenze barriera vapore isolante termico impermeabilizzazione e protezione oppure ardesiato roba del genere la norma 81 78 barra 2 nasce per questo motivo per questo errore gravissimo di progettazione io non darò mai una conformità a una copertura di questo genere è l'errore più grave che un progettista può fare e purtroppo il 30 per cento il 40 per cento delle coperture sono eseguite in questo modo sono molti che infatti che citano proprio questa norma come risposta sul giusto sbagliato bravissimi allora probabilmente sono dei professionisti questi che lo citano perché se non è gente che fa questo mestiere bravi bravi allora la norma cosa dice che il massetto delle pendenze obbligatoriamente va posato sopra solaio che nessuno strato impermeabile anche parzialmente impermeabile può essere posato sotto il massetto delle pendenze che l'isolante termico va sempre posato sopra la barriera vapore e mai sotto il massetto delle pendenze tutto questo il codice di pratica lo diceva da circa dieci anni quindi questo discorso che prima era solo nel codice di pratica oggi c'è la norma e dice che le pendenze devono essere dell'uno per cento come minimo e possono essere realizzate solo in tre modi primo modo si fa il solaio già con la pendenza dell'uno per cento secondo modo sul solaio piano si realizza un massetto di pendenza all'uno per cento terzo modo porca miseria sono arrivato in cantiere e quell'imbecille dell'impresario mi aveva fatto l'impermeizzazione provvisoria barra barriera vapore in piano cosa faccio e seguo un isolante termico di tipo pendenzato cioè già in pendenza all'uno per cento mi costerà una barcata di sotto e la prossima volta vado in cantiere prima solo queste tre soluzioni sono accettabili della norma la norma fa di in più individua 24 sequenze di stratigrafia impermeabile e non si può uscire da quelle 24 questi sono i disegni che sono in norma sono 24 questo è un esempio non ci stavano 24 disegni e possono essere utili vedete questo ad esempio usa l'isolamento termico pendenziato questo usa il solaio pendenziato quindi questo è un discorso molto importante la norma per la prima volta dà delle indicazioni di progettazione e dice che la progettazione si fa con quelle 24 soluzioni non esiste la venticinquesima la ventiseiesima la ventisettesima questi sono disegni di stratigrafie che seguono quella norma eseguiti dall'ufficio tecnico della polyglas per me un disegno di stratigrafia impermeabile è in 3d perché ti dà esattamente tutti gli elementi e gli estratti impermeabili qua parliamo di direzione di posa c'è qualche domanda allora ce ne sono una era proprio sulle direzioni di posa se ad esempio parliamo adesso infatti ci chiedono proprio te la pongo così puoi dare la risposta se ad esempio parliamo adesso comunque che dimmi 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 pure questa è su un ad esempio su una superficie rettangolare se il senso della posa parlo di tutto parlo di tutto lo vediamo dopo sul lato corto sul lato lungo ecco così parlo di tutto parlo esattamente di questo argomento c'è qualcos'altro di domande ce ne sono tante non riusciremo a dare risposta tutte te lo dico già per cui se ci sono domande di quello che abbiamo appena detto e c'è qualche domanda interessante allora beh qualcuno magari ci richiede un po nella stratigrafia se l'impermeabilizzazione sia meglio metterla sopra sotto l'isolante ideale questa è una bella domanda e magari se la teniamo questa è una bella domanda mettila da parte rispondiamo dopo comunque su questo argomento quel libro che vi regalo ci dedicano qualche pagina e quindi è giusto parlarne perché la normativa 81 78 barra 2 ne parla quindi vi dico quello che dice la normativa dopo la mettiamo a parte in questa parola è una domanda a cui voglio rispondere e un'altra cosa è se si possono fare delle simulazioni di elasticità in laboratorio prima delle applicazioni delle guaine guardi le simulazioni si fanno in laboratorio attrezzato perché tutto ciò che si simula manualmente è tutto sbagliato perché la tendenza del del io lo vedo quando vado in cantiere c'è sempre l'energumeno che cerca di lacerare e strappare una membrana cosa che io non riuscirei neanche a fare neanche morto e lui ci riesce poi mi piacerebbe che provasse a lacerare una membrana con la rete di vetro mi faccio il divertimento ma in questo caso poi ci chiedono le prove migliori per verificare la buona sono tutte normate le prove e vanno fatte secondo normativa non si può fare le norme le prove fuori normativa cioè l'unica prova che uno può vedere è tattinalmente ma non vuol dire nulla perché un prodotto pessimo può essere molto morbido specialmente se mettono dei polimeri pessimi dentro adesso non voglio stare a discutere entrare in polemica su questo discorso quindi una membrana va letta sulla scheda tecnica per capirla il problema è che bisogna capire la scheda tecnica il codice di pratica vi dà una mano su questo perché vi dice come leggere una scheda tecnica e vi fa vedere quali sono le caratteristiche che contano e quali sono le tolleranze per ogni caratteristica allora innanzitutto le membrane non si incrociano non si incrociano perché è un retaggio del passato i cartoni e le spalmate si incrociavano perché avevano una direzione unica di resistenza a trazione che era quella longitudinale quindi si incrociavano per avere due direzioni e comunque avevano spessore minimi per cui l'incrocio non dava nessun problema e soprattutto ora se io incrocio due membrane di spessore 4 mm crea un bordo intorno di 12 mm qua l'acqua ristagnerà non andrà mai via perché deve una pendenza dell'uno per cento non riesce a superare lo spessore di 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 cimosa per cui le membrane prima regola non si incrociano uno le incrocia per sbaglio non gli do l'assicurazione ma si gliela do gli do due scappellotti e dico la prossima volta non farlo più cioè non è che non tenga l'impermeabilizzazione gli si fermerà l'acqua le membrane si posano in linea di massima in direzione di pendenza in modo da ridurre il numero di giunzioni che che la membrana può incronciare se io lo metto nell'altro senso ogni 90 cm trovo uno spessore di 4 mm in senso di pendenza lo trovo ogni 10 metri e le membrane si posano nella stessa direzione sfalsandole di circa la metà del rotolo questo è il modo corretto di sfalsamento comunque tutto quello che io vi sto dicendo tutto dall'inizio lo trovate in quel libro che vi verrà donato dalla dalla poliglas e lo trovate anche nel codice di pratica le membrane su un singolo strato si posano a mattone a quinconce spalzando ogni cinque metri circa il rotolo e appoggiandosi con il rotolo di fianco poi vedremo qualcosa di più su questo argomento le membrane mai si posano a scacchiera ogni tanto mi capita qualche progettista o direttore artistico che mi chiede di posare la stacchiera perché sono più belle le membrane artesiate e io gli faccio su un concione che poi non è non lo chiederanno più per tutta la vita perché in questo modo non si possono perché si vanno a sommare un telo con l'altro le instabilità dimensionali quindi invece di di rompere le stabilità dimensionali io le vado a sommare e quindi questo telo qui si staccherà sulle sormonte di testa la soluzione corretta per grandi coperture è quella di sposare dieci metri poi trasversarle con un rotolo messo nell'altro senso poi altri dieci metri poi trasversamento mettere di rompere trotto di rompi tratta i quali assorbono le instabilità dimensionali dei dieci metri cioè la stabilità dei dieci metri rimane nei dieci metri punto e basta poi si interrompe e ricomincia ma non si sommano le instabilità dimensionali allora in che direzione vanno messe i rotoli vanno messi secondo pendenza e possibilmente le pendenze vanno studiate affinché i rotoli possono essere messi nel lato corto per rispondere a chi ha fatto quella domanda che è una domanda intelligente vanno messe nel lato corto della copertura se io ho grandi dimensioni di rotolo di grande dimensione di copertura cioè mi è capitato di fare 10.000 20.000 metri allora si mette dieci metri trasversale dieci metri trasversale con questa pendenza oppure comunque vi dico il problema della pendenza è relativo se rimane un po d'acqua sul tetto è meglio che non rimanga ma non succede alla fine niente specialmente se un artesiato perché l'acqua si dilava allora abbiamo scoperto una cosa importantissima che le membrane in bitume polimero ritirano sempre se non sono pissate e stabilizzate in modo corretto ricordate o se alziano su un pavimento ovviamente non ritirano quindi col caldo ritirano i pannelli termoisolanti col caldo si allungano i passetti cementizi isolai col caldo si allungano per cui tutto ciò che va a contatto con una membrana bituminosa ha un comportamento termico dimensionale opposto a quella della membrana per cui le membrane rispetto a questi elementi vanno incrociate i pannelli termoisolanti è una delle domande sui pannelli isolanti è esatto quindi infatti lo sapevo che poi arrivano ma ci sono tutte queste risposte quindi i pannelli termoisolanti vanno posati in senso trasversale alla pendenza o in senso trasversale di come si deve posare l'infermezzazione e questo lo deve decidere il progettista e lo deve indicare in capitolato perché in cantiere non lo troverà mai così e la linea di posa della membrana deve andare sulla linea spezzata che costituita dal posa dei pannelli a cui inconce perché una linea spezzata è meno pericolosa di una linea continua perché una linea continua è una linea di lacerazione una linea spezzata distribuisce la sua forza qui e poi la sposta qui poi la sposta qui poi la sposta qui una linea continua crea una linea di lacerazione la soluzione ideale specialmente quando avete dei tetti a più falde che c'è la calda continua a cambiare direzione ed è un argomento che tratteremo domani sera cioè domani sera io vi farò vedere la costruzione di due cantieri costruzione cioè le fotografie di cantieri vi farò capire insieme perché scelgo una soluzione rispetto all'altra nel posare i pannelli se c'è una situazione come quella che vedremo domani in cui io un continuo un continuo cambio di direzione delle pendenze uso il sistema di posa dei pannelli a spina di pesce in cui entrambe le direzioni mi creano delle linee spezzate in questo caso io posso posare la membrana in tutti e due i sensi guardate che se c'è ancora posto non lo so ma il corso di domani che io non ho mai fatto per quindi per me è una novità è estremamente interessante perché andiamo su due cantieri uno nuovo e uno di rifacimento in cui vediamo poggiare le cose la linea di lacerazione cosa significa che la membrana si lacera specialmente quando la membrana è stabilizzata con filamenti monodirezionali si lacera questa è la situazione allora su una copertura purtroppo non ho tempo forse domani ci avrò tempo la barriera vapore va posata possibilmente nella stessa direzione dei pannelli questo per semplificare la posa dei pannelli poi domani ve lo potrò spiegare questo è una copertura con monolitico con un solaio monolitico questo è una copertura con solaio frazionato con un solaio frazionato quando non c'è il massetto del massetto di collaborante la barriera vapore va trasversale alle linee di accostamento e va fatto i pannelli a spina di pesce la norma 81 guardate non solo non manca molto e quindi avrò ancora cinque minuti la norma 81 78 barra 2 per la prima volta in italia finalmente il codice pratica lo diceva del 92 vi dà le altezze minime dei risvolti verticali basta con gli progettisti che dico io l'impresa il risvolto verticale non lo voglio vedere perché mi fa schifo non lo guardi guardi dall'altra parte allora questo è quello che vi dicevo di mestre il progettista mi aveva fatto fare l'impermezzazione a questo livello già in corso d'opera entrava l'acqua 6 centimetri sotto il livello dell'impermeabilizzazione io gli ho scritto che era un errore progettuale lui si offendeva perché era un errore era un fatto artistico perché non voleva vedere il risvolto verticale toglie le soglie la 81 78 barra 2 dice che devono essere realizzate con sotto soglia vaschetta cioè l'impermezzazione deve andare sotto non si ferma contro il bordo di soglia e le soglie devono essere sollevate di 25 mm rispetto al piano di scorrimento delle acque 20 20 mm rispetto al piano di scorrimento delle acque perché altrimenti vi trovate queste porcherie questi sono disegni che vi questi sono i disegni che andranno in norma quella nella nella legato di norma lo vedete l'impermezzazione gira fa vaschetta e va e va a contenimento dell'acqua anche quando c'è un pavimentazione galleggiante quindi la pavimentazione galleggiante chi se ne frega mettete lo stesso le vaschette tenete 25 mm 20 mm perché la pavimentazione galleggiante si può andare sulla neve ghiacciare questa è la soluzione lo vedete la vaschetta questo si può fare in acciaio inox in piombo e rame ma la vaschetta deve fare contenimento dopodiché abbiamo 25 mm di contenimento perché chi non impermeabilizza le soglie fa cadere i balconi questi sono balconi che sono caduti perché non sono state impermeabilizzate le soglie a vaschetta l'imperizzazione è andata davanti allo spessore di soglia si sono tagliati i ferri e sono venuti giù i balconi dopodiché il progettista che ha avuto qualche problema di questo genere ha deciso di non fare più le 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 soglie dei balconi questa è una fotografia reale l'impiantistica l'impiantistica appoggiata sull'imperizzazione non si può più fare l'altezza dell'impiantistica e 80 cm permette permettere a un a l'applicatore di andare sotto a fare eventuali riparazioni questo è city life questi sono dei baggioli e li per la tutta l'impiantistica è stata appoggiata a circa un metro e dieci d'altezza lasciando la possibilità di passare sotto le assicurazioni ricordatevi che non pagano la rimozione ricollocamento dell'impiantistica se non è per non è accessibile sotto per poter fare manutenzione e il pagamento della 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 rimozione dell'impiantistica rimontaggio indipendentemente dalla causa che l'ha procurato anche errore di applicazione è di chi ha deciso di fare questo tipo di soluzione questo è il particolare di come si fanno i baggioli allora fotografate questa immagine io ho cercato di riassumere tutto quello che ho detto in questa frase questa se mettete questa frase sui vostri capitolati è giusta e va bene dalle alpi alle piramidi i prodotti poliflex che rispondono a questo con la sigla lc vuol dire che sono armati bidirezionali sono i seguenti addirittura c'è l'antiradice armato bidirezionale perché sotto tutte le pavimentazioni che sono pavimento galleggiante o comunque che sono interessate o potrebbero essere interessate da piante alberi e roba del genere che la signora bianchi metterà su quella terrazzo il secondo strato impermeabile codice di pratica dice che deve essere antiradice perché c'è un blog di un mio amico che piccinini che sulla che fa vedere delle cose allucinanti di coperture di terrazzi dove è stato fatto pavimentazione con albile che crescono in mezzo alla pavimentazione andateci su perché è divertente tutto quello che io ho detto l'ho scritto nei dieci comandamenti per il progettista e per l'impresa applicatrice prendetevi stampate lì vi verranno dati già domani mattina credo mandati via email e uno lo date in cantiere uno ve lo tenete voi e appendetelo in cantiere tutto quello che vi ho detto tutte le direzioni di pose dei teli cosa dovete fare roba del genere e di messo in dieci comandamenti le per me abilizzazioni si possono fare bene e vi assicuro io ci vivo da 44 anni e di problemi sull'imperizzazione perché per carità ne ho avuti ma si contano sulle dita di due mani forse queste sono internazioni infatti in modo corretto domani vedremo queste questa impermeabilizzazione qua vi faccio vedere il cantiere di questa impermeabilizzazione io finito vi ringrazio adesso sono a disposizione vostre per qualsiasi problema domanda o altra domanda fate questa fotografia a tele forne mandate un email in questa a questa questo indirizzo email e vi sarà risposto qualche volta vi risponderò anch'io allora ok ne abbiamo parecchie di domande vediamo di raggrupparne un po per almeno per quanto finché c'è sono a memoria rispondo a quella dell'isolamento termico che mi era qual è la posizione ideale allora non c'è una posizione ideale c'è una posizione logica dell'impermeabilizzazione stiamo parlando ricordo a chi ci ascolta e dell'ora c'è una posizione logica una volta i produttori di materiali e poi tipo polistireno estruso bast da us a syrup j ma roba del genere scrivevano nel loro dei piano e loro schette tecniche delle schede scrivevano quando si poteva fare una copertura rovescia o quando era meglio non parla oggi non la scrivono più però lo scrive il codice di pratica quindi se andate nel codice di pratica cercate copertura rovescia vi spiega quando si può essere utilizzato quando non può essere utilizzata ma credo che lo dica anche il libro che visto che vi darà domani polyglas viviera a polyglas allora riassumento la copertura rovescia lavora sull'inerzia termica del solaio per cui il solaio non deve avere resistenza termica ma deve avere inerzia termica vado molto riassunto perché poi è spiegato molto bene su quelli dei documenti per cui se io ho un solaio alleggerito la copertura rovescia mai se un solaio un calcestruzzo pieno la copertura rovescia ok è un solaio e lamiera grecata la copertura rovescia mai quindi perché non ha inerzia termica e basso spessore allora la copertura rovescia lavora sul fatto che l'inerzia termica può riscaldare la lama d'acqua che è sotto l'isolamento termico di polistireno estruso senza raffreddare la parte inferiore del solaio se io un solaio isolato termicamente ad esempio con le maledette pre dal queste hanno una loro resistenza termica per cui l'acqua rimane fredda e il solaio rimane fredda comunque l'ideale di isolamento termico non è la copertura rovescia e la copertura sandwich dove il primo strato è uno spessore notevole di isolamento termico e secondo strato di isolamento termico polistireno estruso posato all'estradosso dell'impermeabilizzazione è la protezione meccanica e termica dell'impermeabilizzazione stessa io a casa mia farei questo altra domanda sì ci chiedono i fenomeni di reptazione sono influenzati dall'isolante e ti gira anche un'altra certamente il pannello il pannello allora diamo questa come risposta mi va benissimo allora certamente sì perché aumenta la temperatura superficiale e riduce in qualche modo la stabilizzazione però se stabilizzato bene il pannello termoisolante fissato meccanicamente incollato roba del genere con schiume poliuretaniche o con fissaggio meccanico con incollaggio colta utilizzando membrane particolari e liberizzazione incollata in modo corretto sopra la l'isolante termico il problema non c'è il problema c'è quando si usano degli isolanti termici che non sono resistenti al calore e qualche cosa troverete sul codice di pratica e su quel libro che io vi ho dato l'altra discorso importante è che volete un trucco se avete una superficie artesiatela di bianco e pitturatela di bianco e vedrete che le reputazioni non ci saranno perché la temperatura di quella copertura sarà 45 gradi e non 85 90 gradi infatti c'era qualcuno che ci chiedeva anche se il pannello isolante incide sulle maggiori temperature che il manto e vetturbinoso può raggiungere non così tanto come si possa pensare cioè la differenza di temperatura che c'è fra un pannello isolante da 5 cm e uno da 15 sono gradi non solo decine di gradi la tempo pensate che vi faccio due 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 numeri un'impermeabilizzazione con 10 centimetri isolamento termico e ci sto anche questa sto scrivendo quel libro li la tratterà su dieci centimetri isolamento termico io ho fatto degli esperimenti sono stato progettista delle coperture deve essere lunga per 17 anni la 13 anni scusi una lista su una copertura grigia con isolamento di tipo grigio con 10 centimetri di isolamento termico la temperatura era di 85 gradi già con la copertura con ardesiato granigliato bianco era di 65 gradi con la copertura in granigliato bianco trattata con pittura riflettente la copertura la temperatura era di 45 gradi a 45 gradi l'impermeabilizzazione durerà probabilmente 50 anni non 40 allora qualcuno anche ci fa notare che molte volte i problemi quando si utilizzano gli isolanti nascono da pannelli isolanti utilizzati in rotolo che forse sono più adatti a essere utilizzati negli manti e sotto tegola più che sulle coperture piane dove allora io vorrei rispondere che mi appello al quinto emendamento comunque io non ho mai usato e comunque va bene per quello che hanno detto cioè come situazione su una copertura se c'è una pavimentazione può darsi di sì ma se c'è una superficie artesiata comunque mi appello quinto emendamento d'accordo è un consiglio che ci chiedono tuo vista la tua esperienza cosa ne pensi delle membrani impermeabilizzanti artesiate usate cioè lasciate a vista conviene da una mano di vernice acrilica solo allora le brane allora quello che ho risposto prima in un certo senso ho già risposto cioè la membrana artesiata lasciata vista se l'interizzazione fatta bene non succede nulla e che ha può essere anche grigia però sarà sappiate che la temperatura se c'è un isolamento termico sono 85 gradi il problema delle membrane artesiate che tendono a perdere un po di artesia quindi specialmente nei primi anni è facile trovarsene negli scarichi allora io le fisserei sempre artesi allora ad esempio polyglas ha un prodotto trasparente che viene dato una pittura trasparente che viene data sull'ardesia è proprio un fissativo specifico per artesia per cui non si stacca più l'artesia però già che ci siete scusate con qualche c'è decina di centesimi di più credo so 20 10 15 non lo so però poi voi al posto di prendere la membrana artesiata grigia prendete la bianca che dura molto ma molto in più vuol dire guadagnare probabilmente 7 8 10 anni se poi la pitturata di bianco ripeto udura ancora di più perché la temperatura il problema che quello che uccide una membrana bituminosa non è il freddo e la temperatura dai risposta forse a qualcuno anche che ci chiede se la vernice acrilica protezione del manto impermeabile sia un video no allora prece acrilica data su una membrana nera per carità si può fare se c'è la superficie orizzontale bisognerebbe dare darla spesso ogni 3 4 anni se inclinata dura un po di più ma più di 34 anni non dura dura molto di più se data su una sua su una superficie granigliata lì dura molto di più il tetto di casa mia che ha 40 anni è ardesiato pitturato di bianco quello vi assicuro che una soluzione è la pittura per carità l'ho rifatta 3 4 volte in 40 anni però il tetto nuovo è assolutamente nuovo quindi il discorso è per carità esiste l'ardesiato bianco le granigliato bianco usatelo vuol dire 15 gradi di meno e 15 gradini meno probabilmente sono dieci anni di più di più di durata di detto tra l'altro aiuta anche un po tutta la struttura se uno pensa ai costi cioè il tetto di mille metri può costare 30 centesimi per mille cosa fa non so fatti conti 300 euro abbiamo dieci anni di 15 anni 10 anni di più di durata giunti di dilatazione puoi dire qualcosa l'allora giunti di dilatazione potrei scriverci un libro allora su codice di pratica c'è tutto riguardo giunti di dilatazione c'è se ci sono anche se andate sulla rivista ingegno web potete scaricare del mio articolo su fatto sui giunti di dilatazione allora ok e andiamo avanti con almeno una serie di questioni allora non abbiamo forse parlato e varie domande ci chiedono riguardo ad esempio gli areatori del tetto esalatori di vapore vamposati i nostri quale densità allora hanno senso se esiste uno strato di diffusione del vapore sotto cioè se il primo strato impermeabile alla barriera vapore è posato in semi aderenza controllata se non è posato in semi aderenza controllata allora diciamo che se ne può mettere uno ogni 40 metri quadri ma questo tipo di posa lo si fa ad esempio nelle tessiture nelle tittorie nelle cucine industriali nelle piscine in condizioni particolari di umidità interna altrimenti e lì ce ne mette uno in 40 metri quadri se invece avete bisogno una copertura di ventilare una copertura con tutti gli strati incollati ne bastano un ogni 50 centimetri quadri cioè ogni mezzo metro quadro cioè su dieci metri quadrati ne mettete penso una decina il che è assoluto è una risposta è una risposta ironica cioè non servono un piffer perché ci chiedono anche se quelli se questi sono punti di discontinuità visto che oggi parliamo del contesto domanda assolutamente intelligente allora avere un punto di discontinuità che serve a qualcosa ogni 40 50 metri quadrati può avere un senso avere un punto di discontinuità pitto per non combinare in un tubo c'è che non serve a niente non serve un assurdità non facciamo punti di discontinuità può essere un motivo di contenzioso riguardo ad esempio l'assicurabilità anche sicuramente se io trovo delle situazioni che creano rischiosità della copertura io le segnalo e vengono depennate dall'assicurazione vengono escluse dall'assicurazione e succede quasi sempre allora c'era qualcuno fra l'altro che più di qualcuno anzi che ci chiedeva riguardo proprio la norma la norma va interpretata come legge obbligato la norma non è una legge la norma diventa in qualcosa di cogente di port d'importante si si va in causa a quel punto il giudice deve basarsi sulla regola dell'arte allora e questo dice la legge per cui dove cerca la regola dell'arte lo cerca nella 11 5 4 0 e prima guarderà se c'è una legge se non c'è la legge guarderà se c'è una norma se non c'è una norma guarderà se c'è un codice di pratica per cui se voi non siete obbligato non andate in galera perché non avete seguito la norma ma pagherete profanamente se c'è un contenzioso e perdete la causa non so se è chiaro come risposta che non succede niente non c'è nessun problema ma nel momento che succede un contenzioso e c'è un atp e il ctu o ctp dimostra che il professionista non ha seguito la norma e quindi ha fatto un errore progettuale perché non ha seguito la norma a quel punto c'è una responsabilità e fra l'altro sempre in tema proprio di contenziosa responsabilità ci chiedono se come ci si difende nel caso in cui ad esempio per infiltrazioni per l'errore di progettazione il ctv il ctp dell'assicurazione chiamata in causa non conoscono le norme sulle impermeabilizzazioni potete chiamare cioè dovete scusatemi questa è una domanda con una risposta semplicissima allora io capisco capisco che il perito dell'assicurazione posso non capire niente e non conoscere nulla delle norme ma il perito che voi dovete prendere deve essere riconoscere qual è l'impermeabilizzazione non potete prendere un perito che non conosce l'impermeabilizzazione se avete un problema sull'impermeabilizzazione e grazie al cielo di periti che conoscono l'impermeabilizzazione ce ne sono qualcuno fra l'altro ce l'aveva già indicato perché magari non si situisce un albo di tecnici specializzati guardate esiste un albo dei ctu credo si parlava anche di progettisti specializzati probabilmente allora guardate progettisti specializzati in prezzazione siamo 7 8 libri professionisti però e comunque c'è della gente che magari non è uno specializzatissimo di prezzazione ma di prezzazione ne capisce anche perché scusatemi ma col codice di pratica con la normative che ci sono basta leggerle non è che siano e sono molto chiare e fra l'altro nei codici pratica si sono tutti i riferimenti normativi quindi secco c'è quello che si è scritto e poi c'è anche riferimento normativo a dimenticavo il codice di pratica abbastanza se si potrà trovare oppresso flaccovio che la prodotto edito nel flaccovio oppure anche su amazon ma anche l'altro libro come cosa di a tutti tutti i libri credo quello della sim perché lo trovate su bema sull'edizione bema e nel caso invece di tetti nelle costruzioni a secco tipicamente anche metalli che ad esempio con in cui si utilizzano pannelli sandwich in lamiera qual è la membrana ci chiedono più quaretta da utilizzare allora su una situazione in lamiera innanzitutto in quella del libro dovrebbero esserci la soluzione comunque nella copertura in lamiera l'importante che come primo lavoro facciate dei pontage sulle linee di accostamento dei pannelli e di pontage da anche 20 centimetri di membrana in modo da svincolare da spostare lo spostamento di che c'è il movimento che c'è su una linea di qualche millimetro lo spostate su 20 centimetri cioè riducete la possibilità che ci possa lacerare sicuramente la membrana in questo caso dovrà essere del tipo armata stabilizzata bidirezionale poi potete mettere l'elastomerico l'elastroplastomerico quello che ritenete opportuno i problemi con elementi che vengono posati in copertura tipo pannelli fotovoltaici che richiedono davvero si possono appoggiare direttamente ecco mette sopra la membrana ardesiata potete appoggiare un pazzo letto di membrana ardesiata attenzione che le membrane ardesiate che vanno posate devono essere in t2 la poligra un prodotto che si chiama futura a f credo che è una membrana t2 cioè quindi certificata per il fotovoltaico e fra la non va apposato a fissaggio meccanico ma va apposato al lavoramento come hanno detto con dei plinti e va appoggiato su un riquadro di membrano su dei plinti trattati con gomme sotto c'è ad esempio big foot roba del genere o su delle oprene ma direttamente non direttamente sull'artesiato e fate comunque al contorno fate dei passaggi pedonali come o con dei quadrotti sul sostegno con delle strisce di membrana magari di colore diverso ardesiate perché anche ci sono alcuni segnalano ci chiedono anche come risolvere le questioni ovviamente in copertura quando ci sono c'è molta impiantistica voluminosa penso anche a tutti i passaggi fra un elemento e l'altro perché la manutenzione deve essere garantita quindi potete fare una copertura che tutta occupata come mi è capitato ultimamente come tutta occupata da impiantistica e poi io per per arrivare al centro sono a perdita mi faccio calare appeso dai piedi con l'elicottero cioè dovete dare delle una serie di corsie dei passaggi per dividere in zone accessibili ci chiedono anche domande puntuali hai esperienza su materiali anche eventualmente casi studio per edifici vincolati da come beni architettonici quindi da lei non cambia nulla cioè da quel punto diventa un problema estetico e si può trovare qualsiasi cosa che funzioni che sia conforme o tegole o roba degli avanti non è cioè certo che li ho fatti ma non c'è di volta in volta era un problema diverso bisogna vedere cosa vogliono le belle arti se vogliono le tegole se vogliono un artesiato se lo vogliono pitturato se vogliono il rame si vogliono il piumbo però si può fare tutto insomma non è un problema dato l'argomento è conosciuto tutto quello che bisogna fare avere avere le informazioni poi si opera altre questioni capita ad esempio non sono da alcuni di trovare in cantiere ci dicono tegoli prefabbricati calciato fermato con isolante guaina ma senza barriera il vapore quali conseguenze ci sono le conseguenze per quel tetto non funzionerà le conseguenze che purtroppo guardate dico sempre che mi appello quando se mi parlate di prefabbricatori mi appello a quinto avventamento d'accordo è la stessa risposta che ho dato prima che se avete orecchie per intendere intendete altra cosa e quali rischi ci sono nell'applicare l'impermeabilizzazione direttamente sull'isolante quando si fa il massetto ci possono essere lacerazioni nell'angoli con le pareti verticali ovviamente sì allora se voi prendete il codice di pratica e prendete il libro che vi manderò e prendete la normativa 11 4 81 78 barra 2 la normativa 11 88 81 78 barra 2 il codice di pratica tutto il resto quindi tutti questi libri vi diranno che fra l'impermeabilizzazione e il massetto ci vuole degli strati separatori questi strati separatori non possono e parliamo di membrane bituminose quindi perché perché sintetico cambia tutto questi strati separatori il libro che sto scrivendo adesso parlerà di quell'argomento quello che sto scrivendo adesso fra gli strati e fra l'impermeabilizzazione e il massetto non può essere posato un materiale impermeabile tipo un foglio di polietilene omogeneo ma possono essere posati solo materiali permeabili sia al vapore che all'acqua esempio un carton feltro bitumato esempio un foglio di polietilene forato micro e macro forato prima il macro poi il micro possibilmente nel polietilene si mettono due strati di cui il macro forato sotto e micro forato sopra perché perché le membrane sono fatte di bitume polimero e il bitume polimero e oleoso quindi potrebbero esserci delle fuoriuscite qualche volta in base anche al tipo di bitume usato al tipo di polimero usato delle perdite di oleosità queste perdite di oleosità potrebbero anche danneggiare è abbastanza raro grazie a fortuna potrebbero anche danneggiare il fuori ci possono essere degli dei materiali e inquinanti o aggressivi che possono arrivare con l'acqua piovana sull'impermeabilizzazione quindi è importante che l'impermeabilizzazione rimanga dilavata dall'acqua anche se sotto una pavimentazione un po di acqua ci andrà e passerà attraverso la spessore la pavimentazione e laverà la superficie impermeabile ovviamente se lo strato che abbiamo messo sopra è permeabile all'acqua attenzione molti mettono un tessuto non tessuto un tessuto un tessuto e ciò che di peggio si possa mettere perché assorbirebbe i materiali dannosi e le tene fissi sull'impermeabilizzazione quindi o cartoni bitumati o polietilene forati lungo i perimetri la pavimentazione non può appoggiarsi contro gli svolti verticali ma la norma dice che ci deve essere inserito un elemento comprimibile in polietilene reticolato che non è il polistirene non è il poliuretano non è la roba in polietilene reticolato in spessore adeguato con minimo 10 mm e c'è una tabella nella norma è una formula che dice che lo spessore nel codice pratica addirittura c'è la tabella in funzione della dimensione in modo ad assorbire le dilattazioni termiche della pavimentazione altrimenti l'impermezzazione come ha detto quel signore che ha fatto la domanda che è corretta si taglia al piede certo allora qua ne abbiamo veramente antonio di domande per cui potremmo andare avanti credo sono qui fino a mezzanotte se c'è gli altri non voglia io rispondo se uno stesso fatto si stacca e se ne va e comunque mi fa molto piacere per le domande perché ce ne sono ma belle insomma delle belle domande no tutti apprezzano la tua grande competenza ed esperienza ti giro i moltissimi complimenti che sono giunti fra l'altro proprio per la tua esposizione ma ovviamente voglio vedere tutti domani perché domani interesserà molto certo infatti io invito anche tutti voi a seguirci nei prossimi appuntamenti perché una serie di argomenti altro probabilmente troveranno risposta anche nei prossimi webinar che non è solo quelli di domani ma anche delle prossime settimane terrà quello che terrorato ottenuto io oggi sulle ma sulle manti sintetici e cataldo terra sulle stratigrafie quindi le domande sulle stratigrafie verranno risposte da lui certo allora facciamo ancora qualcuna poi però visti l'ora dobbiamo allora qualcuno ci chiede un consiglio su come procedere con una c2 in una scusa ctu quando non è reperibile la scheda tecnica della membrana utilizzata visto che oggi parlavamo di allora purtroppo cioè allora lui mi sta dicendo che la scheda tecnica non c'è perché il lavoro è molto vecchio e non si riconosce più la membrana allora le prove che si possono fare non hanno molto senso nel senso che si può capire cos'è la membrana in quel momento perché le prove sono le prove uni quindi non si può risalire a come era la membrana a suo tempo cioè quindi le prove che si possono fare presso i laboratori ci sono dei laboratori di analisi che possono dare queste queste indicazioni ma serviranno poco serviranno a dire che probabilmente la membrana è morta allora bisogna capire è più interessante capire perché la membrana è morta allora una membrana muore quando torna a essere praticamente bitume che era cioè quando torna ad avere le flessibilità del a freddo del bitume quando cioè praticamente diventa diventa che vetrifica alla temperatura ambiente cioè si spezza la ventura dietro in quel caso cosa si può fare si può pensare di tenerla no probabilmente pensare di toglierla allora la no nel codice di pratica perché la nona la norma non tratta questo argomento dice che nei rifacimenti bisogna verificare qual è lo stato del della stratigrafia sotto e dice che la cosa più importante che un rifacimento di una copertura può essere fatto una volta sola non possono essere fatti due volte il rifacimento a copertura se la prima volta non funziona la copertura va rimossa completamente questo è l'argomento di domani perfetto ultimissima domanda dai facciamo ancora questa fra le tante e allora aspetta c'era una questione sul l'utilizzo nel senso hai mostrato le deformazioni che si possono creare nel manto per i problemi che ha già esposto e ci chiedono utilizzando un aspetta nessun perso qui nel nella valanga di domande l'intenzione era quella di utilizzare un peso diciamo uno strato che possa tenere la membrana più stesa diciamo in qualche maniera ecco l'ho trovata finalmente una pavimentazione pesante in caso di un massetto interposto tra due strati impermeabili potrebbe limitare la formazione delle bolle che abbiamo sicuramente sicuramente sì anzi scusatemi come le domande sono intelligenti mi dispiace anche limitarmi a dare una risposta così anche questa è una domanda interessante allora nel caso specifico facciamo quello di city life che è esattamente questa situazione io mi sono trovato che a mezzogiorno c'erano le bolle per cui se io avessi già gettato una pavimentazione sopra quelle bolle ci sarebbe rimasto il vuoto nella situazione bolle perché erano molto pesanti però stranamente la mattina alle sei queste bolle non c'erano perché l'acqua il vapore acqueo che era dentro condensava e quindi le bolle si appiattivano in caso doveste fare un discorso di questo genere se o posate il getto e la pavimentazione pesante fissa va benissimo alle prime ore del mattino quando le bolle non ci sono è proprio appiattito non si vedono più oppure se siete d'inverno in automatico non avete le bolle il problema è solo d'estate fino a settembre è inoltrato ma se andate a dicembre le bolle non ci sono perché non si forma vapore acqueo dentro le bolle e quindi potete a quel punto avete appiattito tutto e siete tranquilli benissimo allora direi che siamo in chiusura magari richiamiamo anche simonetta rossi così viene raggiunto finalmente allora direi riassumiamo un po di cose allora intanto grazie ad antonio grazie a tutti voi per essere numerosissime a parte mia e scusate se non riusciamo veramente a dare risposta alle domande vedremo di organizzare le mandate vedo di rispondere simonetta che è responsabile di poliglass per questa tutta questo ciclo vedremo di attrezzarci per se posso dire due parole volevo ringraziare per l'interessamento per tutto anche il pubblico che mi sembra da quello che ho ricevuto anche come messaggi mentre ascoltavo l'architetto broccolino c'è un estremo interesse quindi mi fa molto piacere e spero di rivedervi di più se è possibile perché penso già che sia un numero molto elevato anche con i prossimi webinar come stava dicendo l'architetto broccolino il suo punto sarà domani alla stessa ora a completamento di questo percorso che parte quindi con una visione con un approccio più teorico da un punto di vista di normative sullo stato dell'arte dell'arte a supporto appunto del professionista del progettista e con temi di carattere più pratico approcciando proprio le problematiche relative ai cantieri con dei casi studio di cui si è occupato l'architetto domani sempre alla stessa ora con settimana prossima invece prenderemo il tema delle delle membrane impermeabilizzanti più per settore quindi in particolare il collega mauro reddemagni affronterà il tema dei manti sintetici sempre con un approccio pratico quindi cercando di andare proprio a sviluppare temi che possono più possibili più possibile essere utili ai nostri ai nostri clienti diciamo la settimana successiva affronteremo con lo stesso approccio quindi sempre parlando di stratigrafie idonee a in base alla destinazione d'uso con soluzioni a base di membrane per fabbricati in bitume distillato polimero e poi la settimana successiva che quella della prima settimana di giugno completeremo questo primo ciclo di sessioni webinar con il collega fausto tessari che ci illustrerà tutte le metodologie di verifiche sistemi di controllo e di collaudo sia per i manti sintetici che per le membrane bituminose in copertura quindi chiuderemo questo ciclo di interventi proprio anche con un approccio e con una tematica legata proprio alle verifiche che devono essere fatte in cantiere in laboratorio presso gli enti e quant'altro quindi spero che questa prima lezione diciamo così sulle membrane da parte dell'architetto broccolino anche se è andata oltre i tempi però questo vuole anche dire che le domande e l'interessamento era elevato quindi possiamo solo che essere molto molto orgogliosi e contenti di tutto questo assolutamente diamo allora prima di chiudere alcune informazioni tecniche agli tanti che ci chiedono allora riceverete non le slide oggi ma il del materiale tecnico fra l'altro scusate tecnico informativo il decalogo di cui ha parlato antonio broccolino vi verrà inviato o successivamente conferma simonetta scusate sono ormai arrivato ai limiti giustificato solo per questo motivo per l'orario allora successivamente inviere tutti i partecipanti di oggi riceveranno immagino un link perché il manuale so che il testo che ha citato antonio si è così quello che vedete sarà il pdf che riceverete con i media parte del marketing della polilass e dove riceverete appunto proprio il pdf completo di questo testo che devo dire che ha richiesto molti sforzi e tempo soprattutto da parte dell'architetto ma soprattutto competenza e quindi siamo molto orgogliosi di poter essere stati noi fautore e sostenitori di questo tipo di di testo e di pubblicazione quindi è un testo che vale veramente la pena di leggere sono contento che voi lo rendiate liberamente disponibile infatti allora come diceva l'architetto è divenuto testo di studio proprio presso il politecnico di milano anche esatto qualcuno forse anche studente o altro ci diceva perché non insegna all'università ma antonio broccolino esatto infatti una volta all'anno ma lo faccio ieri l'ho fatto l'università abbiamo capito vista la tua competenza e anche la capacità di esporre che è evidente che hai una consuetudine nel parlare di questi argomenti volevo dire una cosa in questo testo c'è anche gli argomenti che tratterà fausto ok bene meglio cioè come argomento interiore informazione qualcuno ci chiede se sarà possibile rivedere questa registrazione di questo webinar cercheremo di metterla quanto prima a disposizione sul canale youtube edico news di posto il link tenetelo d'occhio e prima possibile cercheremo di metterla così anche ai tanti che ci chiedono se potevi rispiegare alcuni passaggi o altro purtroppo avremo allungato di troppo i tempi quindi rivedetevela quando la posteremo così magari anche quello che avete perso volete risentire lo capirete a qualsiasi dubbio scusa se interrompo qualsiasi dubbio qualsiasi perplessità avete l'indirizzo della posta elettronica che vi abbiamo dato info chiocciola polilass punto ip potete tranquillamente indirizzare tutti i vostri quesiti i vostri dubbi le vostre domande a questo indirizzo di posta elettronica e poi con il nostro staff tecnico saremo ben lieti di potervi rispondere in maniera esaustiva ecco io posso dire una cosa perché poi non ho più l'occasione magari di dirla questo libro leggetelo per primo perché questo è un libro che si può leggere proprio leggere dal primo capitolo all'ultimo non è un libro di consultazione questo è un libro di consultazione va sfogliato e dopo aver letto questo se ne sarete in grado di usare questo d'accordo altra cosa avvertenza qualcuno ci chiede se l'iscrizione di oggi vale per i prossimi giorni no ogni webinar è singolo quindi probabilmente riceverete nostre mail se vi sfuggono non le avete ricevute andate sul canale sul padron sul sito edicomeventi.com trovate lì il calendario iscrivetevi ai singoli ogni singolo appuntamento delle prossime settimane mi raccomando in anticipo direi anche perché se non ho capito male per questo evento di oggi già da ieri eravamo già abbiamo già raggiunto il numero di contatti e di presenti ovviamente abbiamo un limite anche per tutta una serie di motivi di iscrizioni quindi se interessano i prossimi webinar ovviamente iscrivetevi man mano che ricevete magari l'email e così vi assicurate insomma la possibilità di assistere al ciclo di webinar direi che abbiamo ricordato tutto vi diamo appuntamento per tutti quelli che sono già iscritti a domani e chi non l'avesse fatto forse c'è ancora posto ma non lo so a quest'ora si onestamente quindi provate e direi che a questo punto ringrazio simonetta rossi ringrazio per tutto quello che oggi ci ha illustrato ci diamo appuntamento sempre con antonio broccolino domani a partire dalle 17 poi vedremo quando finire domani più corto d'accordo tentiamo di contenere di più i tempi anche perché capiamo che non ci hanno ringraziato ma dovevano lasciarci per ovviamente impegni o quant'altro familiari o altro comprendiamo benissimo scusate ma il tempo abbiamo cercato di almeno per la parte di illustrazione di rimanere nei tempi e poi ci siamo allungati con le domande allora grazie ancora a tutti buona serata ea domani grazie a voi arrivederci a domani